Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in macchina perché siamo passati... Allora, sono andata a prendere Giada a mezzogiorno perché deve andare dal dentista. Allora, siccome per fare presto per mangiare siamo andati al McDonald's. Lei ha preso le ricche e il Crispy McBacon. A Pia ho preso l'Happy Meal e invece per me, vi faccio vedere, sono stata brava e ho preso l'insalata. Ho chiesto il pollo alla piastra, però purtroppo mi ha detto che non era disponibile e ho detto vabbè allora dammelo croccante. Piauta, Piauta. E allora ho preso il pollo croccante, vabbè, però ho preso l'insalata. A mio avviso la bustina del sale è troppo grossa, io mangio quasi insipido e quindi per me questo sale è troppo. Però è andato anche il pepe e poi l'olio. L'olio è in questa bottiglietta qui, piccina, da 15 ml, ma ce n'è ancora tanto. Aspettate. Beh, comunque fino all'etichetta perché ne ho messo poco e quindi lo teniamo. Pia mi sta rubando il cibo e niente, davvero ho preso l'acqua, anche per Pia invece Giada ha preso la Fanta. E boh, e niente, quindi mi sono... Basta, scusa, è il mio il cibo, mangia il tuo. Perché? Perché sì. Uffa. Ma come uffa? Mangia le patatine che poi c'è il panino. E niente, quindi stiamo mangiando, siamo sotto il parcheggio del Conad. E boh, adesso do una mano a Giada, finisco l'insalata che poi Giada ha l'appuntamento a l'1.20 e già mezzogiorno 35. Pia! Pia! La vedi la macchina? Questa è Barbie, secondo Pia. E anche questa. Senti che è Barbie. Barbie, dov'è Barbie? Guarda lì, quante Barbie! E lì, c'è la macchina. E lì, c'è Marino. E lì, c'è la macchina. Guarda un'altra. E lì, c'è la macchina. Guarda, c'è la macchina. Guarda. Alla macchina. Guarda. Guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo usciti e ci andavano del gelatino un attimino. È sul passeggino Pia, sì? Ti piace il gelato? Sì. Meno male. Adesso abbiamo ancora mezz'oretta da aspettare Giana. E poi quando esce lo veniamo a prendere anche a lei il gelato. Adesso poi tra un po' ripartiamo e vi facciamo vedere un po' di acqui terme. Ma va bene, non è che gireremo tantissimo, però... Mamma borsa? Eh, sì, lascia stare la mia borsa e mangia. Va che me la sporchi. Guarda che così ti cade lo scodellino. Eh, guarda, mamma l'ha tirato su. Dai, mangia. Tienilo con la manina. E indovinate io cosa ho già fatto? Lei ha già finito. Bene. Una merendina alternativa. Sì, andiamo in pranzo. Entriamo e usciamo all'interno. Che bella, guarda la prima tigana. Bimba. Ora che c'è solo una bimba dice bimba quando... Quando c'è l'anno due dice va bimbi. E vabbè bimbi. Bimbe. Guarda come l'hanno messo distante i tavolini. Sì, invece prima erano tutte appiccettate. Minchino davanti ai campioni. Minchino davanti ai campioni. Minchino davanti ai campioni. Non ho filmato la prima tigana. No, sto filmando la bollente. Vabbè, la bollente la piazza. Dai, vai però. Vai, vai. Ma perché vai in mezzo ai tavolini? Perché non... Di là devi andare. Ma dobbiamo uscire dall'altra parte. Se non vai come facciamo? Io leggermente freddo ma tu non lo dirà nessuno. C'è un bambino con la bicicletta. Vogliamo schiacciarlo con il nostro passeggino? Perché stiamo andando in questi posti strani. ma sono strammi ma invece si non ci siamo anche uno ma si che ci siamo meno ma adesso ti faccio vedere dove sbucchia vai piano bigiano sabrina cos'è che ha detto? no prima quando ha detto la parolaccia vai perché dobbiamo andare di qua? siamo andando di nuovo verso Gianna? via via io sono stanca eh eh oh ciao zitta mi te zitta zitta ma che paura mamma e poi tu non sei sezuale non sei là via comunque alla fine non l'abbiamo comprato ma andiamoci adesso e poi andiamo a Gianna Ci dobbiamo andare, magari se camminassi bene E muoio lo stesso Ciao Pia Ciao Pia Ci stava dormita Ci stava dormita Samina stai filmando il pavimento Sto filmando Pia Adesso ti giri, stanno basso Così? E quando andai lì ti anzi e fai vedere la chiesa Pia Su, su, su Da di mangiare le patatine Andiamo a comprare il detersivo per la lavastone Piano Piano Allora Allora, come avete visto siamo passati da Cadiz E abbiamo preso un pacchetto di salviettine Queste qui sono della nata baby bio Erano in offerta mi sembra 1,24 euro Poi un numerino per Pia Per il suo compleanno 1,19 euro E poi a 2,99 euro Che era in offerta Ho preso questo Fairy Platinum Gel All in one Questo qui è al limone C'era anche se no Brezza Marina Aspettate Scusate Non abbiamo chiuso la porta Stavano scappando i cani E c'era anche appunto Brezza Marina Ma chiedendo a Sabrina Lei ha scelto questo qui Al limone Quindi lo andiamo a provare Ma tanto sono sicura che andrà benissimo Perché L'ho già provato comunque il Fairy Non che il detersivo per i piatti non funziona Vi faccio vedere Che i piatti comunque vengono puliti Però Se hanno fatto il detersivo per la lavastoviglie Presumo che un motivo ci sarà Quindi meglio usare quello lì E usare quello per i piatti solo in emergenza Ecco Quindi adesso vado poi a scaricare questa lavastoviglie Ne metto su un'altra e vado a stendere E intanto preparo la cena Buongiorno Oggi è il giorno dopo Stiamo facendo colazioni E Pia Per me cereali e latte di mandorla Mentre invece per Pia questi cereali Cookies e latte Sono buoni? Ok E niente Quindi mangiamo E poi iniziamo a fare i lavori Allora Ho fatto il letto Poi ho piegato la roba Questa qui è già divisa per bambino E poi qui Ho steso Sabrina è riuscita a formarmi L'altro giorno un secondo filo Ma non sapevo se teneva Per fortuna tiene Un costeso E adesso Andiamo giù Ho attaccato una lavatrice Di lana E prima avevo fatto anche una lavatrice con le ciabatte Le scarpe così da lavare L'ho già stesa Adesso ho fatto una lavatrice di lana E andiamo a preparare anche il pranzo Per pranzo Farò un'insalata di riso fredda Per i bambini E invece io mangerò la pasta integrale E infatti adesso poi vado a mettere su anche il riso Faccio andare le zucchine Ho messo un po' d'olio Un po' di... due spicchi di aglio Tagliati a pezzettini piccoli Adesso vado a mettere le zucchine Ne ho ancora due da tagliare Poi farò cuocere a vapore le carote E niente Così le usiamo per... Poi da mettere appunto nella pasta per me E nel riso per loro E come fonte proteica Penso che mangeremo i fagioli Per loro ho trovato il tono naturale Che lo userò poi anche domani per Maurizio E quindi Ehm... A loro metterò il tono nel riso E invece io metterò i fagioli bianchi di spagna Allora Ho steso anche qua sotto Adesso stiamo andando a prendere i bambini al pulmino Pia è vestita così E niente Ho detto anche stesa qua Ho lavato la lana Così poi le coperte le metto via Il tempo oggi è così Infatti ne sto approfittando per lavare E stendere Lì ci sono le lenzuola che ballano E spero che si asciugano in fretta così Oggi stendo altre cose E via Andiamo? Sì Andiamo Sì Andiamo 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 Tieni 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 Lo trovo Scomparso Nel altro universo Dov'è davvero? Cosa? Cosa è il Michelin Pia usa il cucchiaio